Ciao a tutti e ben ritornati qui con la letteratura inglese. Allora, quello che mi ha fatto molto piacere è che alcuni dei miei followers più affezionati mi abbiano chiesto effettivamente di iniziare a parlare dell'età vittoriana ed era esattamente dove stavamo arrivando. Infatti abbiamo parlato a lungo adesso del romanticismo e naturalmente ci avviamo verso lo studio invece dell'epoca, dell'era, dello stadio successivo che è appunto chiaramente quello della Victorian Age o Victorian Era. Non abbiamo esaurito chiaramente tutti gli artisti romantici, ce ne sono sicuramente altri, torneremo anche a vederli, ma quello che mi interessa appunto è fornirvi un quadro di insieme dei vari step della letteratura in modo che possiate, magari anche se siete studenti adesso si avvicinano un pochino gli esami, possiate seguire un pochino, avere un quadro di insieme che sia per quanto possibile esaustivo. Andremo quindi oggi a vedere quella che è la Victorian Age perché è importantissimo capire il background culturale ma anche politico e sociale per andare poi a capire gli autori che noi chiaramente vedremo, parleremo di Dickens, parleremo di Stevenson però è importantissimo andare a capire prima che cosa c'è alle spalle perché mai come ora in realtà la situazione socio-politica e economica ha influenzato tantissimo la letteratura che molto spesso parla proprio di questo. Allora, anzitutto di quale periodo stiamo parlando? Stiamo parlando di un lasso di tempo che va dal 1837 che è stato quando la regina Vittoria è salita al trono pensate che aveva solo 18 anni, fino al 1901 quando la regina Vittoria è morta e in realtà è stato un regno molto lungo, una sovrana molto longeva, 1837-1901 un lasso di tempo sicuramente molto lungo e soprattutto zeppo, zeppo di eventi, di eventi e di cambiamenti. L'Inghilterra che Vittoria ha ereditato era un'Inghilterra assolutamente scossa da riotti, da un malcontento molto molto forte, soprattutto per quel che riguardava evidentemente le classi di lavoratori e anche un pochino la piccola borghesia, ma in particolare i lavoratori vivevano in situazioni di sfruttamento, di malcontento, erano sottopagati, vivevano in condizioni igieniche, di salute assolutamente improponibili e non avevano sostanzialmente diritti. E questo chiaramente, oltretutto erano anche da un punto di vista proprio pratico inseriti in questa urbanizzazione selvaggia che c'era stata intorno ai grossi centri urbani che si erano creati per la rivoluzione industriale, quindi vivevano in questi slums, in questi quartieri malsani e spesso malfamati. Evidentemente questa situazione di instabilità, logicamente di irrequietezza, ha provocato anche il formarsi e poi conseguentemente anche i conflitti che da essi derivano di movimenti estremamente radicali, tra i quali per esempio il cosiddetto cartismo in italiano, che sarebbe il chartism in inglese, cioè questo movimento che nel 1838, quindi immediatamente in realtà dopo la salita al trono della regina Vittoria, ha fatto sì che venisse proposto al Parlamento il cosiddetto People's Charter, quindi questo documento che avrebbe in qualche modo dovuto portare ad una riforma proprio in favore di queste classi. Sfortunatamente i lavoratori, specialmente i lavoratori delle fabbriche, dovranno aspettare ancora parecchio, dovranno aspettare fino al 1867 con il Reform Bill e poi successivamente fino al 1871 con il cosiddetto Trade Union Act per avere proprio l'ufficiale legalizzazione delle loro unioni e quindi conseguentemente degli organi che potessero effettivamente far valere o quantomeno combattere per i loro diritti. Inoltre, ulteriore motivo di malcontento erano le cosiddette Corn Laws, quindi le laws, le leggi del corn, del grano. Questa è stata una battaglia che ha visto, forse per la prima volta, probabilmente unica o comunque tra le pochissime volte in cui hanno visto, i lavoratori e la middle class, quindi la borghesia, uniti contro queste Corn Laws, con queste leggi che venivano in realtà promulgate dall'aristocrazia, in realtà dai proprietari terrieri che avevano ancora un grosso peso sostanzialmente in Parlamento e che tenevano in modo artificiale alto il prezzo del grano. Questo era chiaramente motivo non solo di malcontento, ma di effettiva difficoltà proprio di, chiaramente per tutte le persone che non appartenevano all'aristocrazia, non solo, ma questa situazione aveva creato un'ulteriore condizione di fame e di ancora più grave malcontento anche in Irlanda, dove la situazione era estremamente complicata al tempo. Poi fortunatamente la riduzione del prezzo sostanzialmente del pane ha un po' calmato questa situazione sia in Inghilterra, sia dato un pochino di sollievo a quella che era la situazione irlandese, dove peraltro si mantenevano dei grandissimi conflitti, anche di tipo religioso, a causa del fatto che gli irlandesi di religione romano-cattolica godevano di diritti che in realtà i protestanti non avevano e quindi chiaramente di qui tutti i conflitti e le battaglie interne che possiamo evidentemente immaginare. A proposito di conflitti, l'Inghilterra veniva ora da un periodo di relativa pace e dopo Waterloo in realtà non c'erano state delle situazioni da un punto di vista militare e conflittuali importanti. Ecco, si verifica anche questo durante il regno della Regina Vittoria, stiamo parlando in modo particolare della guerra di Crimea, a cui l'Inghilterra ha dovuto, in qualche maniera si è sentita, di dover partecipare per porre un po' un limite a quello che era il progetto di imperialismo russo, per così dire. Tra l'altro in questo periodo si va a strada la filosofia politica di un importantissimo pensatore, uomo, filosofo inglese, per l'appunto, che era John Stuart Mill. John Stuart Mill, pur credendo e continuando a sostenere quello che veniva definito l'utilitarianism, quindi appunto l'importanza di mantenere quello che era il bene dei più, il bene della maggioranza delle persone, però al tempo stesso pone anche un pochino dei limiti rispetto a quello che è il cosiddetto principio dell'esse fair. e quindi cerca di creare un pochino di equilibrio, un maggiore equilibrio tra quella che è la libertà individuale e l'intervento in realtà dello Stato. È uno dei passaggi verso un concetto un pochino più democratico e più paritario, più controllato di politica e anche di politica evidentemente economica. Politica economica che si fondava in gran parte sull'impero, come abbiamo detto prima, questo British Empire, che pensate copriva un quarto delle terre emerse del nostro pianeta, un quarto delle terre emerse. C'era questo detto che diceva appunto che il sole non tramontava mai sull'impero britannico perché in qualche parte del mondo stava sempre sorgendo, splendendo, tanto era chiaramente diffuso questo impero. Le origini dell'impero britannico in realtà sono abbastanza antiche, risalgono al XVI secolo con la regina Elisabetta, Elisabetta I, Tudor, e i suoi primi viaggi un po' pionieristici. Però questa esigenza di impero e di colonie ha avuto un grande sussulto proprio in concomitanza con la rivoluzione industriale per l'esigenza appunto di materie prime o comunque di commercio evidentemente con l'estero e si è diffuso questo colonialismo veramente ovunque. Stiamo parlando del Canada, stiamo parlando delle cosiddette Indie occidentali, stiamo parlando dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Africa, dell'India. Ricordiamoci che la regina Elisabetta, scusatemi, la regina Vittoria era stata nominata, dichiarata Empress of India, l'imperatrice dell'India e l'India stessa veniva definita il cosiddetto Jewel of the Crown, quindi il gioiello della corona. Il gioiello della corona principalmente per i materiali di importazione e per il peso proprio strategico, importante, economico e commerciale che evidentemente aveva. Questo ha indubbiamente modificato anche la mentalità inglese, una mentalità che adesso si sta forgiando in maniera diversa, con una sorta di orgoglio anche un po' nazionalistico, con un senso forse anche di superiorità nei confronti delle colonie, e una superiorità anche culturale. L'inglese inizia a sentirsi come la razza prescelta per andare a portare civiltà, per anche da un punto di vista religioso convertire le altre razze. E questo chiaramente andrà a generare logicamente dei conflitti e poi un senso anche di affermazione da parte invece delle culture che subiranno il colonialismo inglese. E questo difficile rapporto poi vedremo che comparirà evidentemente anche in letteratura, Passage to India, Heart of Darkness, Kipling, cioè stiamo parlando chiaramente di autori che hanno parlato molto in realtà della prospettiva delle colonie oppure della prospettiva degli inglesi verso le colonie. Poi in realtà questa spinta espansionistica porta evidentemente ai conflitti proprio anche armati. Pensiamo alla guerra boera, per esempio, in cui chiaramente gli inglesi si sono posti in aperto contrasto in Africa con i Boeri di origine olandese che chiaramente non hanno subito passivamente questo intervento inglese. Quindi tutta questa situazione imperiale poi si modificherà ulteriormente quando da colonie queste terre si trasformeranno in veri e propri domini e in quel momento richiederanno, rivendicheranno o la possibilità di poter intervenire nelle politiche proprio inglesi oppure una maggiore autonomia e qui andranno a crearsi poi effettivamente i conflitti più importanti, i conflitti veri e propri. Comunque se da un punto di vista estero fioriva evidentemente l'espansione e la politica inglese all'interno del paese stesso la situazione non era proprio così fiorente, così positiva. Intorno agli anni 70, 1870 chiaramente diciamo, il paese ha subito e ha vissuto ed è entrato in una fase di forte depressione, depressione anche economica e questo era sicuramente dovuto anche all'aumento della competitività di altri paesi che stavano crescendo in questo momento, parliamo in modo particolare della Germania in Europa e degli Stati Uniti a livello invece globale. Quindi questo chiaramente ha creato un importante, come possiamo dire, antagonista o comunque competitor per l'Inghilterra evidentemente. È anche vero che però in questo periodo da un punto di vista, se vogliamo, ideologico, se vogliamo sociale, c'è questa spinta democratica forte, importante, positiva. Per esempio l'estensione del diritto del suffragio, del diritto di voto che adesso viene aperto anche ai lavoratori, ai lavoratori in modo particolare in ambito dell'agricoltura e minatori e questo è sicuramente un passaggio fondamentale. Crescono anche quelle che sono le autorità governative locali modificando poi essenzialmente quella che era la House of Commons, la cosiddetta, chiaramente noi sappiamo, una delle due camere del Parlamento la House of Lords e la House of Commons. La House of Commons che sarebbe originariamente nata come sostanzialmente la camera preposta all'agente comune, in realtà evidentemente non è mai stato così ma sono stati dei rappresentanti appunto della società, adesso si strutturano come reali rappresentanze governative locali, questo chiaramente è qualcosa di assolutamente nuovo. Come si ristruttura evidentemente anche la società stessa? La società vittoriana è una società che vive, si fonda, si struttura in base ad un codice, un codice morale estremamente stretto, estremamente rigido, estremamente severo. La cellula fondante della società vittoriana è la famiglia, la famiglia patriarcale e la donna ha un ruolo solo ed esclusivamente all'interno di questa famiglia e la sua massima realizzazione è appunto nel matrimonio e nel mantenimento del cosiddetto household, quindi del focolare domestico, diciamo così. Vi ricorda qualcosa tutto questo? Sì, vi parlo di queste apparenze, vi parlo di questo strict moral code, di questo codice morale così rigido, vi parlo di questo social pattern, vi parlo quindi di questo modello sociale preciso della famiglia patriarcale della donna, il cui massimo scopo nella vita è il matrimonio. Vi viene in mente qualcuno? Certo, proprio così vi viene in mente sicuramente Jane Austen. Ne abbiamo parlato, ne abbiamo parlato nel novel of manners, abbiamo detto sebbene Jane Austen appartenca in realtà al periodo romantico, va a intuire e a raccontare all'interno di quello che era il suo small world, che era appunto il mondo della sua classe sociale, che era la gentry, in realtà, con i nuovi ricchi, i nuovi padroni, i nuovi proprietari terrieri, però in realtà va a raccontarci qualcosa che poi diventerà elemento fondante della società vittoriana. È sicuramente un periodo di grandi contraddizioni questo, perché da una parte abbiamo sicuramente questo progresso tecnologico enorme, dall'altra parte abbiamo la povertà totale. Da un lato abbiamo queste riforme, anche importanti, anche molto positive, anche grandissime scoperte, dall'altra parte abbiamo ingiustizie, abbiamo questi riotti, queste irrequietezze, anche dovute a ingiustizie di tipo religioso. Sicuramente è stato un periodo in cui l'Inghilterra ha mostrato i muscoli. Pensiamo anche semplicemente al fatto che comunque con adesso l'invenzione delle tecnologie, della macchina a vapore, quindi dell'industria, dell'industria tessile e via così dicendo, si sono sviluppate le tecniche al punto tale da portare sostanzialmente la Regina Vittoria a questa iniziativa che è stata appunto la Great Exhibition of Industry, nel 1851, il primo expo, possiamo dire così, in cui sicuramente l'Inghilterra voleva mostrare la sua grandezza, era così orgogliosa di quelli che erano i trionfi nazionali per quel che riguardava appunto la meccanizzazione e via così dicendo. E come spesso dico, la rivoluzione industriale non si limita a essere una rivoluzione industriale, diventa una rivoluzione dei trasporti, chiaramente vengono create nuove strade, nuove ferrovie e via così dicendo. E sempre, come ho detto già anche in precedenza, una rivoluzione dei trasporti, strade e ferrovie, non portano mai soltanto il trasporto di merci, portano anche il trasporto di persone, con le persone viaggiano le idee, viaggia anche la cultura. Questo è molto importante. Certo, poi c'è anche una rivoluzione di tipo proprio, che concerne proprio l'aspetto agricolo anche, e quindi cambia proprio la tipologia di agricoltura, cambia logicamente anche la distribuzione della popolazione, cioè questa urbanistica selvaggia, di come abbiamo già parlato, che effettivamente ha portato a conduzioni effettivamente tragiche, le città più industriali raddoppiano la loro popolazione senza essere chiaramente in grado di accoglierle. E questi slums, questi quartieri, come si diceva, vanno a creare delle situazioni assolutamente complicate da gestire, da reggere. Ne parlano molto gli autori. Pensiamo a Dickens, pensiamo a Hard Times, ne parleremo di questo. Lui ci parla proprio della alienazione dell'individuo all'interno di questo nuovo sistema, di questo nuovo meccanismo. In realtà, se ci pensiamo, ne avevano già parlato anche i romantici. Avevano un po' previsto tutto questo. Visto sicuramente in parte, ma anche previsto nelle sue conseguenze. Pensiamo per esempio a Blake, quando nella sua poesia London o The Chimney Sweeper, quanto in realtà vada a toccare esattamente questi punti. E tutto questo mette anche un pochino il seme per le intuizioni di grandi artisti come Stevenson, per esempio con Strange Case, On Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Perché questo dualismo dell'individuo è proprio il dualismo di questo essere umano che vive questa alienazione, che quindi in qualche maniera si trova spezzato tra un se stesso più istintivo, più forse anche autentico, e invece un se stesso così plasmato e a volte frustrato dalla società, tanto che poi la parte inconscia andrà a ribellarsi e a manifestarsi nell'espressione peggiore in realtà di sé a causa proprio di questa frustrazione, questa compressione di fondo. Ma di tutto questo parleremo più avanti poi in dettaglio parlando degli autori. Io spero di avervi dato un quadro abbastanza esaustivo di questo periodo. Se avete delle domande, come sempre, chiedetemi. Gli autori li affronteremo uno per volta e se avete qualsiasi cosa da dirmi, commentate e ancora una volta, per favore, per favore, per favore, iscrivetevi e condividete perché chiaramente più siamo, meglio riusciamo a lavorare, migliore è il nostro gruppo di lavoro e più sono anche io in grado di potervi venire incontro e poter rispondere alle vostre richieste che sono veramente tante. Di questo vi ringrazio assolutamente. Vedrete che risponderò a tutti il prima possibile. Un grande saluto, grazie infinito di tutto e a presto.